In Offalora eravate riusciti a riprenderla, poi a ribaltarla e poi è venuto fuori questo 3-3 che probabilmente non soddisfa nessuna delle due squadre. A noi non ci soddisfa sicuramente, non ci soddisfa soprattutto perché i ragazzi hanno stati bravi a recuperare una partita compromessa da due episodi dove siamo stati ingenui, balordi, polli e compreso il 3-3 perché comunque alla fine una squadra come la nostra non deve subire questi tipi di golle. Per un momento dove tu sei un attimo girato, prendi un fallo laterale e dove è nata poi anche l'espulsione di Forgione. La cosa ci dispiace tantissimo, i ragazzi però faccio i complimenti perché hanno dato tutto e mi hanno mostrato veramente carattere. Abbiamo provato a giocarla anche nei minuti finali con l'uomo in meno per cercare di vincere, abbiamo avuto pure due occasioni per poterla vincere 4-3 però dobbiamo fare mea colpa su tante situazioni dove abbiamo sofferto e dove siamo caduti in errori banali che pesano e una squadra come la nostra non deve permettersi. Tante disattenzioni soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto l'impressione che sul secondo gol loro vi eravate fermati perché c'era un uomo a terra, c'era Spagna a terra in piena area però non bisogna mai fermarsi. Quello che siamo stati dei polli, ingenui e balordi, nel senso noi non dobbiamo fermarci in nessun motivo, gli altri giocavano, avevano l'uomo a terra, abbiamo preso poi un gol senza nemmeno attaccare chi calciava in porta quindi Sade è assurdo questo, i ragazzi ne sono consapevoli e anche dispiaciuti perché dopo aver fatto quello che hanno fatto e ribaltato la partita subire poi l'ennesima beffa su rigore, tra l'altro pure con un uomo in meno mancavano 12-13 minuti e sono ancora più incazzato perché avevo chiamato il cambio da 10 minuti Forgione? Sì ma già da tempo l'ho chiamato, si era preparato, avevo il centrocampista in mezzo all'area di rigore, l'arbitro se non riceve il feedback non lo sostituisce e intanto ci ho preso rigore ed espulsione perché il segnalino non ha sbandierato il mio cambio, da mezz'ora che lo chiamavamo Quindi chiarito anche questo fatto perché noi ci eravamo accorti che magari doveva essere sostituito Forgione che non era in perfette condizioni, era infortunato Già da qualche minuto avevo chiesto il cambio, poi Forgione c'è stato l'episodio che ha avuto i crampi e io lo volevo sostituire e non sa, era centrocampo, già si era svestito, quindi la cosa mi fa ancora più rabbia Un'ultima cosa, visto che Forgione è stato espulso, una gravissima perdita in vista in ottica derby? Sicuramente non avere degli elementi importanti per noi e qui sono tutti importanti è comunque una cosa che ci limita Al di là che sia Forgione, che sia Sini, che probabilmente non avremo perché era diffidato che sia Gibilterra, che sia Ture, io voglio avere tutti sempre a disposizione per poter sbagliare le scelte e comunque avere a disposizione i giocatori su cui poterci contare non averli è sicuramente una cosa che ci limita L'ultima, mister, a questo punto è meglio non guardare la classifica perché ormai la stammettese è andata abbastanza su però bisogna vivere la giornata Ma noi abbiamo sempre lavorato alla giornata e noi non dobbiamo vincere obbligatoriamente il campionato perché quando sono arrivato qua a me non me l'ha detto nessuno devi arrivare primo obbligatoriamente A me mi hanno detto di fare un percorso, rimanere più attaccati alla classifica con l'avvento della nuova proprietà, cercare di, con quello che era il nostro percorso, capire dove potevamo intervenire per essere ancora più competitivi I ragazzi stanno facendo un percorso stratosferico è stata una settimana difficile e pesante per noi abbiamo lavorato, siamo venuti qua, abbiamo fatto una partita che dovevamo fare siamo andati in vantaggio e come ho detto siamo stati ripresi, abbiamo ribaltato e quindi ai ragazzi non posso che dire bravi, sono stati veramente eccezionali ho dei ragazzi straordinari che stanno facendo veramente un percorso importantissimo, non importante spero che quello che sia stato detto non venga comunque frainteso noi lottiamo tutte le domeniche per vincere e cercheremo di essere tra le tre e quattro squadre che dovranno lottare per il campionato è ovvio che se ci sono gli altri che vincono sempre alla fine faremo le somme se noi avremo dato tutto quello che ci siamo promessi e detti gli daremo la mano e chi farà più punti di noi ma noi saremo qui a lottare tutte le domeniche per vincere le partite